E bella tutta Niantic, sono Gio e bentornati, sono video di Pokémon GO! Bomberoni, cosa vi dicevo mesi fa? Che durante il periodo estivo Pokémon GO sprizzava le stelle E infatti non passa un giorno che Niantic butta fuori la news E allenatori, attenzione perché oggi parliamo del Pokémon GO Plus Plus E allora bomberoni, oggi partiamo con un potenziamento, un maxamento di questo Pikachu che... Non ricordo ragazzuoli, me lo avevano scambiato come potete vedere, è uno scambio fortunato Però non ricordo che Pikachu è, come boh, del capodanno lunare forse, non lo so, non lo so In caso fatemelo sapere sotto nei box commenti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Eccoci qua, pochino, pochino perché per fortuna è fortunato raga, potenziato Io ci tento ancora con Marianne, eh raga Evento come sappiamo ben terminato, però ho ancora lì una missioncina e andiamo a caccia Andiamo a caccia, attenzione qui raga, Shiny Check del gattino, bellissimo mio Ma abbiamo anche Drifloon che non è Shiny, non è Shiny Shiny Check, altro gattino, niente, glamour, ma allora andiamo alla missione raga Allora, timbretto giornaliero, prima di tutto con le nostre Pokémonete Che mi pare raga domani sia l'ultimo giorno che possiamo raccimolarci questa bellissima missione Potevamo lasciarlo sempre così raga, che bellezza è una missione giornaliera Dove ci dà un tot di Pokémonete, veramente molto apprezzata Ma qui, dai, Marianne, un finale, dai, Arancio, ma figuriamoci Allora raga, volevo spendere due paroline su questi tre fantastici Pokémon E come sappiamo, abbiamo visto, debuteranno Shiny raga Perché normali ci sono già all'interno del game Ma arriveranno cromatici ai vari GoFest Sendai, Madrid e New York E infatti inizieremo proprio con Emoiga Eccolo qua raga, che tra qualche giorno farà il suo appunto debutto possibile a Shiny Al GoFest di Sendai in Giappone Ma andiamo a vedere raga, andiamo a vedere Ho fatto la traduzione perché in italiano non c'è ancora questa news qua Non so come mai Esci dagli spalti Allora andiamo a vedere Un momento avventuroso Allora alcuni dei Pokémon di tipo lotta e volante Appariranno durante il Pokémon GoFest 2024 a Sendai Lo sappiamo oramai Apparirà a livello globale Ammazza che traduzione raga Quindi Emolga Shiny avremo anche noi l'occasione globalmente di catturarlo Sempre che lo troviamo Inoltre per la prima volta gli allenatori di tutto il mondo potranno incontrare Emolga Cromatico se sono fortunati Eccolo, vi ho anticipato Niantic Attrazioni dello stadio Eccolo qua da sabato primo giugno dalle 10 raga Fino a martedì 4 giugno alle 20 Quindi 4 giorni Eccoli qua i Pokémon selvatici che possiamo incontrare in giro raga Veramente bellissimi Ammazza non guardate la traduzione del nome perché Cutie Fly carino Ma che cacchia E va bene Va bene oramai tra l'inglese e l'italiano Sicuramente quello più interessante raga è Emolga Nienfu non c'è ancora possibile Shiny Che è anche l'unico No, abbiamo Staravia che è un'evoluzione oramai Però sicuramente andrò a cacchissima di Emolga Speriamo che chiaramente abbia un rate Shiny un attimino più elevato Huevos Eccole qui raga Io vi dicevo che le uova da 7 km non andavo più a schiuderle Perché le ritenevo più importanti Quindi andavo a schiuderne altri Ma 7 km eccoci qua con Farfetch di Galara Riolu e Emolga raga Eccolo qui Eccolo qui Che andremo a schiudere a più non posso Faremo una bella schiusa da 7 km Scorrendo abbiamo i bonus 1,5 per caramelle per far schiudere i Pokémon 1,5 Potevano fare 2 Per polver di stella per far schiudere i Pokémon Quindi andremo a schiudere come detto Incontri di attività di ricerca sul campo Quelli che possiamo trovare nelle missioni nei Pokestop E c'è la missione di Emolga Sì raga Poi andremo a studiarcela bene Che punterò un casino su quella Mentre gli altri Pokémon che possiamo trovare Sono PJ, Zubat e Doduo Ricerca a tempo retribuita Vediamo se c'è qualche novità Per 1,99 o l'equivalente della vostra valuta locale Potrai accedere alla ricerca a tempo esclusiva dell'evento Questa ricerca a tempo assegnerà agli allenatori Compiti incentrati sull'esplorazione e sulla schiusa delle Huevos Bene Magari che ci danno anche incubatrici, super incubatrici oggettini Premi della ricerca a tempo includono Eccolo qua Infatti quanto segue Incontri con Emolga Bene Una super incubatrice Tanta roba Eccola qua E 20 caramelline di Emolga Tieni presente che la ricerca a tempo scade Ha una scadenza Infatti non lasciatela scadere Se no la perdete Gli incarichi associati a questa ricerca a tempo Devono essere completati E le relative ricompense devono essere Richieste prese Entro martedì 4 giugno Alle 20 Appunto se no Se ne vanno E adesso Bombers saltiamo a un altro bellissimo evento Incentrato sul GoPlus Plus Ma come mai qui a fianco Ho tutta questa spatafiata di Slakot Raga Guardate qua Ben 26 Slakot Shiny Tra cui anche le evoluzioni Come potete vedere però 26 totali Come mai Tutti i miei Slakot arrivano da Community Day O eventi vari Ed ecco qua raga Riposatevi E rilassatevi Durante l'evento Spiaggia e relax E possiamo intravedere I cose pazzesche Sia Slakot con la sua linea evolutiva Ma anche il Koala È bellissimo raga Ha debutato l'anno scorso Cioè fantastico questo Pokémon E io ero in vacanza Sinceramente Giù a Malaga E chiaramente non è che sono stato dietro tanto Per fortuna torna E addirittura Possibile Shiny Ma quando ci sarà raga Questo evento Spiaggia e relax Dalle 10 di venerdì 7 di giugno Alle 20 di mercoledì 12 giugno Pokémon in arrivo Eccoli qua Super esclusivi raga Perché hanno i cappellini berrettini Li vedete qua Bellissimi Slakot con visiera Vigoroth con visiera E Slaking con visiera Slaking raga Lo sappiamo È un ottimo difensore Per le palestre perché arriva a tantissimi punti lotta Chiaramente abbiamo anche i bonus dell'evento Punti esperienza raddoppiati Catturando Pokémon Incontri a sorpresa Sorridete Potreste incontrare a sorpresa un Pokémon a tema Quando scattate una foto dell'evento Quindi raga Durante l'evento scattiamo queste foto Staremo a vedere chi ci spunta fuori Possibile Shiny Io presumo che sia Slakot Ma staremo a vedere Abbiamo gli incontri in natura Qua non abbiamo i simbolini Ma c'è solo la scritta raga Allora vediamo chi possiamo trovare Selvatici Psyduck Slowpoke Drowsy Marip Slakot con visiera Eccolo qua Oranguru Veramente tanta roba E Sandygast Che infatti l'ultimo non può essere Shiny E con fortuna alcuni allenatori e allenatrici Potranno incontrare Munna e il Komala Eccolo qui Che appunto raga Sì Sarà possibile Shiny Vediamo le ricompense per i compiti di ricerca sul campo Allora completandole possiamo Incontrare i seguenti Pokémon Slakot con visiera Komala Che sono sicuramente i top dell'evento E addirittura ci dicono su questi due Che incontrati tramite la ricerca sul campo Avranno una maggiore possibilità Di essere trovati Shiny Croatici Finalmente magari l'hanno capita raga Di alzare un attimino il rate Non dico che deve essere 100% Ma cacchio E qui infatti abbiamo Psyduck Drowsy Marip Slakot con visiera Oranguru Sandygast E Komala Ed ecco qui raga la ricerca a tempo Del Go Plus Plus La ricerca a tempo sarà disponibile Per gli allenatori e le allenatrici Che collegano Go Plus Plus Quindi basta sincronizzarlo Collegarlo Praticamente raga Come la missione di inizio del Go Plus Plus Dove avevamo l'occasione Di sbloccare la missione Con dei super check esclusivi di Snorlax Che infatti aveva un bel rettino Ma lo vediamo Pokemon Go Plus Plus Vi consente di giocare a Pokemon Go Quando non volete stare al telefono Usando la funzione di lancio automatico Potrete lanciare automaticamente Le Pokeball Ai Pokemon selvatici Mentre la funzione di giro automatico Vi permette di girare automaticamente I dischi dei Pokestop Inoltre potete modificare le impostazioni Sì Per lanciare Megaball O Ultra Ball Addirittura Infatti l'abbiamo visto raga L'anno scorso C'è bellissimo Perché almeno andiamo con Ultra Ball Che sappiamo tra virgolette Che non ci scappano E usare Pokemon Go Plus Plus Per monitorare facilmente il sonno Con Pokemon Sleep E qui allenatori Ditemi se ci state giocando A Pokemon Sleep È sufficiente premere il pulsante centrale E posizionare il dispositivo sul cuscino In caso raga Volete un video dedicato Su Pokemon Sleep Fatemelo sapere Io attualmente l'ho messo in pausa Dopo aver sincronizzato Pokemon Go Plus Plus Con Pokemon Go Potrete partecipare alla ricerca A tempo Eccola qua Che prevede Come ricompensa Polver di stella Incontri con i Pokemon Seguenti ispirati all'evento Snorlax con papalina da nota Eccolo qua Infatti raga Slakot con visiera E il Komala Bellissimi check E qui chiaramente Non può mancare La ricerca a tempo A pagamento Eccola qua Per 2 dollari L'equivalente raga Dalla vostra valuta locale Oggetto per avatar Zaino Komala Incontri con Komala E Slakot con visiera Belli Infine Polver di stella Punto di esperienza Baccananas D'argento E tanto altro Ok Staremo a vedere su questa Cosa abbiamo d'altro Sfida di collezione E in arrivo una sfida di collezione Ispirata all'evento Completala per ricevere Polver di stella Punto di esperienza E un incontro con Komala Speriamo di trovare lo shiny Raga Questo coalino Ed eccoli qua Concorsi al Pokestop Che oramai non mancano più Non ci dicono i tipi di Pokemon Però lo scopriremo presto Store online Eccola qua Che l'offerta non può mancare Allenatori Ma voi l'avete preso Il Go Plus Plus Come abbiamo visto Iniziano ad arrivare Gli eventi estivi E voi Bombers Dove andrete in vacanza quest'anno E per oggi Da giù è veramente tutto Mi raccomando Iscrizione al canale Per rimanere sempre aggiornati E se il video raga Vi è piaciuto E vi è stato utile Vi invito a lasciare Un bellissimo like Gamergi vi saluta E ci vediamo alla prossima Ciao Bombers